cari amici di informa tv sono in collegamento con l'avvocato silvia pini buongiorno avvocato benvenuta buongiorno matteo buongiorno a tutti i nostri ascoltatori allora noi iniziamo sempre col sorriso però con l'avvocato diciamo che abbiamo già toccato degli argomenti molto pesanti oggi ne toccheremo uno che è ancora più pesante quindi io volevo far solo una premessa ora non so se una parte di questo video magari l'introduzione verrà pubblicata anche su youtube però in questo video integralmente verrà pubblicato solo sul sito di informa tv questo perché perché andremo a parlare di un argomento preferisco dirlo subito in modo che se sono delle persone particolarmente sensibili io le invito a non guardarlo questo video perché nel proseguio siccome tratteremo del rapimento di bambini ai fini del traffico di organi tanto per essere chiari mostreremo anche delle immagini immagini che sono esplicite quindi sono immagini veramente impressionanti ecco quindi invito le persone sensibili ecco magari a evitare di guardare questo film ma prima di mettere in onda queste immagini verrete avvisati da una schermata che appunto avvertirà che stanno per andare in onda queste queste immagini prima di dare la parola all'avvocato che è sicuramente più esperta di me in questo in questo argomento motivo per cui ne parlo proprio con lei faccio una piccola introduzione perché è un argomento talmente lontano dal nostro vivere dal nostro la nostra vita quotidiana da sembrare assurdo purtroppo non lo è e le immagini che mostreremo sono molto esplicite in questo senso però avviciniamoci un po' a piccoli passi io inizierei a parlare avvocato che del fatto che in europa secondo l'europoll negli ultimi anni sono spariti almeno 10.000 migranti minorenni e 5.000 sono in italia questo lo scriverà in news e poi c'è un articolo di famiglia cristiana che dice ma dove finiscono i bambini degli immigrati ecco dove finiscono sicuramente una parte purtroppo dei bambini anche immigrati che spariscono finiscono nel traffico d'organi è così nel mercato del traffico degli organi certo certo allora innanzitutto dell'argomento se ne parla pochissimo purtroppo a livello mondiale se ne parla pochissimo meno ancora della pedofilia nonostante sia un problema che esiste ed è estremamente allarmante ma anche gravissimo perché il traffico d'organi illegale è uno dei più diciamo tragici crimini che si possa commettere contro l'umanità ovviamente poi questo mercato riguarda le persone giovani e quindi soprattutto i minorenni perché perché è chiaro che gli organi vanno a prenderli sulle persone giovani non sulle persone di una certa età i cui organi comunque meglio non utilizzare dovete anche scusarci se useremo dei termini che ci fanno passare per persone ciniche noi non siamo persone ciniche assolutamente io vi assicuro che per raccogliere i dati e organizzare questo video assieme a matteo ho sofferto nonostante io tratti nella in occasione della diversi temi scottanti o comunque emotivamente coinvolgenti però questo credo che sia uno dei peggiori innanzitutto questo traffico di organi illegale purtroppo fa parte del cosiddetto nuovo mercato globale e viene chiamato in gergo anche mercato rosso degli organi giusto per dare un'idea ed è una tematica che riguarda diciamo da una parte il mondo dei ricchi e dall'altra il mondo dei poveri purtroppo il mondo dei poveri è la fonte di questo è la fonte della materia prima e cioè degli organi mentre la parte ricca sono coloro che è la domanda cioè coloro che hanno bisogno chiedono questi organi e hanno soprattutto i mezzi tantissimi soldi per pagarli perché c'è un giro d'affari miliardario che ruota intorno a questo traffico d'organi ed è anche anche comunque cioè da se da una parte abbiamo il mondo dei ricchi e dall'altro il mondo dei poveri in mezzo abbiamo altri personaggi che partecipano a questo macabro teatro che sono le organizzazioni criminali che fanno il lavoro sporco e cioè sono coloro che rapiscono i minori e si occupano anche poi di smaltire rifiuti